Bella a tutti ragazzi, eccoci torniamo qui con un altro fantastico appuntamento su The Witcher 3 Cosa cacchio faccio ecco, che poi quando non giochi per un paio di giorni ti inizi subito a dimenticare come si gioca con i tasti Allora ragazzi, siamo mancati per 2-3 giorni gli appuntamenti, ma siamo ritornati così alla grandissima Pronti per un nuovo appuntamento, vabbè che possiamo accorciare poco Siamo vicini, e comunque niente, non so ragazzi, sinceramente suggeritemi anche voi magari qualche cosa di nuovo Ho visto che è uscito da provo, attenzione, mi stai avvicinando a un punto cruciale della trama Dopo il quale non potrei più completare alcune missioni secondari, salvo prima di continuare Ah ah ah, vi direi, ero partito con l'intenzione di giocare alla storia principale Però a questo punto vi direi sinceramente facciamoci un po' di missioni secondari, facciamocela insieme Perché alla fine mi dispiace non farcele, a questo punto facciamocela insieme Direi di andarci a continuare qualche missione secondaria e a farci qualche missione secondaria Perché alla fine penso che ci possiamo divertire dai, ci possiamo divertire Scopri come sta Marlene, ah ok Sto ancora, sto carburando ancora Ma perché poi ho dormito pochissimo stamotte Ah, questa è quella della storia principale che abbiamo salvato Grande, grande Questa è stata tornata, grazie a Barnabas Basil's care Horrible ordeal you endured, glad I got it short Yes, years of suffering Do you know what was worse than the hunker? Watching my loved ones, my children grow old and die All my family's long gone now Va in città, va insieme a una nuova vita, puoi restare qui La ospitiamo? This is a big house, big estate You can stay here Truly? I could never infront me After all I've suffered The years of starvation I've but one dream At last to prepare Don't see a problem if that's your dream You can help Barnabas Basil in the kitchen Eden Nothing could make me happier Thank you Poi abbiamo trovato una nuova cuoca Da donna maledetta Sì, vecchia dei grepita qua Vabbè Ok Ok Probabilmente se l'avessimo andata a vivere in città Magari non ci dava queste cose Do you fear I will cook in your home As I brew Counting on you having slur Of that You can be sure I thought you were a lady Do you mean to say a woman of my rank Should have had a cook You're right Mi senti io andiamo a casa da compagnia Ci sono io, bebe I cannot say yet Visited other homes as a white Yes But ever at night In cerca di cucchia Dall'altra di cucchia Vabbè Va bene così Vabbè se andiamoci a prendere questa dieta Eh, dieta Top Top proprio Cioè Come Come faccio a imbrogliarmi tra dote e dieta Cioè Due parole uguali Guarda Ok Mi aspetto Lo dico ragazzi Mi aspetto sicuramente qualche mostriciato Qualche incontro Comunque mo Parlando di cose che Non ci azzeccano nulla Col gioco ovviamente Sicuramente Avrete eseguito almeno fino adesso Gli europei E quindi sappiamo tutti che Brutta fine purtroppo Abbia fatto l'Italia Nonostante un grandissimo Insomma Percorso In senso Ha vinto col Belgio Una partita fortissima Ha vinto con la Spagna Peccato Devo dire Peccato Io mi aspettavo che perdesse la Germania Perché comunque la Germania era Sulla carta la nazione più forte Campione del mondo attuale Però pensavo che perdesse malamente Poi per come ha giocato Mi è dispiaciuto Devo dire La verità mi è dispiaciuto Peccato Ce la poteva fare Ok allora Sì Vedo un cavolo Quello è il bello Ah forse è qui Vedo un qualcosa Se chiuso serve una chiave Eh Mando aviglio Non muovo una chiave Traffigate le cenerie Non ci faccio niente Andiamo qua Bussa Ah sì perché ha detto Nei barili Giusto Molto una chiave Anche questo è pieno Sì ma accendi sti cose Dai Ti devo dire tutto io Sempre l'ultimo ovviamente Quindi Ah ce ne sono ancora Quindi ragazzi Fatemi sapere Che ne pensate insomma Dell'Europa e dell'Italia Anche di questi ricori Se ne sta discutendo molto Visto che stanno girando davvero un sacco di video Di commenti Di commenti E leva il suo sfatto al portiere Zazza per Il modo in cui Ha ballato Ok direi che ho trovato Spillone d'oro Della gioia e corona Ok E' una missione secondaria andata Devo io Ma la tenda dei match Devi partire dal bus A sto punto va Diciamo così Cerchiamo di fare Quante più missioni possibili E poi magari A sto punto Me le completo Un po' da solo Oppure se Se vi fa piacere Vi porto un altro video Di nuovo su missioni secondarie Vediamo insomma Se preferite Insomma Andare avanti più direttamente Alla storia principale Oppure se Fai vedere altre Missioni secondarie Vi può interessare Ora il 52 Il cavalieri Innamorato Ok vediamo cosa c'è da fare qui Ah questo è quel cavaliere Che ha fatto il torneo Pensi che sia stato male di E' da Vabbè, storie d'amore comunque. Non mi sembra affatto una maledizione questa. Non lo so. Ok, l'adama di compagnia della... Quindi ora dobbiamo partecipare anche al torneo. E dei risvolti, ragazzi. Parliamo della ricompensa. Ok. Lavorare invece di pensare alle donne di torneo. E grazie. T'ho fatto lo sconto. E torneo non ci interessa le informazioni. Ce lo faremo direttamente e uccideremo tutti. Come se non ci fossero domani. Ma quindi dobbiamo anche tirare a cavallo. Questo penso che sicuramente non ce l'avrebbe fatto fare più questa missione. Perché alla fine si intreccia appunto con quello che non ci va. Allora, dal tiro al bersaglio. Da dove iniziamo? Vediamo un po'. Vediamo un po' come funziona perché... Non so che ci aspetta, sincero. Dai corri un po'. Invece di pensare solo alle pulsere, l'è bello. Anche stasera sparano fuochi così. Caserta, la città dove sparano fuochi tutti i giorni praticamente. Si fa il complanno 1, vai, fuochi d'artificio. Muore, vai, di nuovo fuochi d'artificio. Ok, vediamo un po' che dobbiamo fare. Colpisci tutti i bersagli. E sei bersagli. Si, ma come cazzo faccio? Così. Pochissimo il tempo, cazzo. No. Porca trota. Non ce la farò mai. Non ce la farò per uno solo le bestemmie. Si. E ce la fa. Mamma mia. Sempre alto livello, ragazzi. Sempre, sempre, sempre alto livello. Spapammo. Parlo scalota. Se no, prendi la spada. Si uccide gente per un addestramento ignobile. Tipo, ma non lo dovevi uccidere. Ok. Non così tanto. Andiamo avanti con questi scemitaggi, vai. Veniamo per la corsa. E abbiamo fatto. Siamo arrivati? Intanto. Era ora. Vediamo un po'. Ok. Quindi colpendo, rallentiamo un po' il tempo se ho capito bene. Mmm. Ho manco letto là che sarà scritto. Boh. Vediamo un po'. Siamo stasso allenamento. Siamo stasso allenamento. Basta. Sincero. Abbiamo due. Ok. Vai alla tenda di registrazione e iscriviti al torneo. Cioè che poi, bah. Cioè siamo partiti, vedete. Dal fatto che dovevamo indagare appunto sulla ragazza che interessa a quest'uomo. Presunta, diciamo, maledizione. E invece, siamo finiti a fare un torneo. Oltre a poi le indagini che dovremmo comunque fare. Anche se non sono affatto sicuro comunque che si trattasse di una maledizione. Ma questo lo scopriremo. Eccoci. Voglio riunirlo. Naturalmente. Dobbiamo prima vedere due formalità, però. A richiesto di Guillaume. Ho guardato nella vostra storia. Sì? Le mie scoprile mostrano che potresti partire. Che sorpresa. O come l'honorable Ravix di Forhorn. Non è ogni anno che abbiamo un combattimento. Ravix di Forhorn. Perchè? C'è B. Perchè? S'ho fatto? In Toussaint, noi trattiamo la heraldria molto seriosamente. Un Ravix di Forhorn era il nome di cui hai atteggiato una festa che adorando la prima prima di Favetta, la sua da. È davvero benissimo. Che adorando a loro che aiutano tanto senza matta. Vabbè diciamo momenti di storia così poi rimaniamo Geralt di Livia e fa un c***o il resto. Ok lo scudo commemora la partecipazione va bene sai delle sfide dei premi e del giuramento del torneo altrimenti posso spiarti tutto io non ci perdiamo in chiacchiere che altrimenti qua è una storia infine sull'airone sull'amore della mia dama lo giuro sulla giarrettiera di sua altezza riesco a non fare alcun giuramento giuro sull'amore della mia dama vabbè mi sembra la cosa più logica sull'airone per caso che arridano una cagata dell'armatura mi immagino ok perfetto siamo pronti ragazzi abbiamo la nostra armatura nostra tenda ma che è sto grembiolino ma che 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 è successo qua leggi ok sono ovviamente gli iscritti va bene va bene va bene ok carolto well i'll be have you decided to turn knight errant un chilo di t-stack c'è come dire deve aver sniffato un chilo di gogai anti doping chiamate vuoi giocare a guento ok allora ragazzi di andarci a fare questa partitina a guento e poi magari ci salutiamo altrimenti esce fuori un video troppo lungo cerchiamo di vincere questa partita e poi non abbiamo incontrato neanche ora che ci penso nella casa della right la dove dovevo prendere la dote non abbiamo incontrato neanche mostri non me l'aspettavo ragazzi non me l'aspettavo mi aspettavo di incontrare qualcuno sincero qualche animaletto qualche mostro e invece niente è stata tranquilla siamo entrati e siamo usciti come se niente fosse vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vecchio vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' questa partita nebbia penetrabile non mi sa che questa è l'unica soluzione però aspettiamo un attimo distruggire l'unità e l'unità di combattimento corpo a corpo più forti uguali Ok questa ci può essere utile No Sprecatissima Errore proprio madornale Pensavo che gli distruggeva quelle là Con il valore più alto Vabbè così lo potremmo recuperare forse Vai Dai che ce lo facciamo easy for easy Troppo ho consumato un botto di carte E alcune sprecatissime Annaggia però vabbè L'importante è vincere Ok ok Penso che abbiamo anche un'ottima carte Ce la possiamo fare Abbiamo anche due carte più di lui Già le sta finendo È vinta ragazzi Ah però Hai siri Hai siri 15 Genio Del male Distruggi anche la tua Vabbè proprio domination Proprio assoluta dai Posso anche risuscitare uno Questa di otto Già così Già abbiamo vinto Questa Dominato alla grande Ragazzi Siamo andati a vincere 47 15 Per farti capire Chi comanda Cazzo E va bene ragazzi Vediamo un po' il video Ottimo Dobbiamo ragazzi Giro Faire knights I salute you The honor and duty of tourney patron Have fallen to me this year Fight honorably So that I may bestow upon one of your number The tourney's grand prize You have sworn your vows You have readied body and soul The time has come to test them Behold home Achespark Of the Meichtian royal line Against him new blood Sir Geralt of Rif Ancora i bot Perché san Santi Tutti i giorni Ok ragazzi Arrivate il nostro vino sfidante A sto punto non so se Ci conviene forse Per fare anche il duello Ah questo Ok perfetto Devo colpire i rossi penso Presumo In questo siamo imbattibili Dai mamma mia Cazzo No è stravinto Anche gli azzurri Dove ne fa Ah no Gli sto facendo i sui Cazzo Cosa cavolo sto creando Mamma mia Stravince addirittura Gli ho fatto pure un paio dei sui Ebbene si ragazzi Grazie Your prize sir A crossbow a daunt With your crest I congratulate you Thank you Thank you My lady My medallion Is vibrating strongly Can only mean one thing The explanation is disappointing I'm afraid The fragrance Hmm Deve essere lei La donna Che su cui stiamo indagando Thanks Ragazzi È il primo duello Stravintissimo Proprio La balestra Non c'è stata sfida Proprio Addio Mi preoccupa Quella della corsa Ah si Ok ragazzi Allora salviamo Perché altrimenti Vabbè ragazzi Facciamo questo salvataggio A volo Lo faccio così Insieme a voi E vabbè ragazzi Direi che per questo appuntamento È tutto Mi sto un attimo Affogando da solo Mi raccomando Lasciate un sacco di mi piace Per questo video Per questa puntata Se vi è piaciuta Fatemi sapere Come vi ho detto Durante il video Magari qualche nuova serie Che vi può interessare Se vi interessa di più Le missioni secondarie O se preferite solamente Puntare A seguire la storia principale Lasciate un mi piace Il video Andate nella descrizione Per raggiungere I vari social network Facebook Instagram Twitter Io vi saluto ragazzi Ci vediamo domani Per un altro appuntamento Bella a tutti ragazzi Ciao